Mi spiace ragazzi ma oggi sarete testimoni di un crimine gravissimo, commesso ai danni della nostra tanto amata cultura culinaria italiana. Andiamo ad assaggiare la pizza alla fine del mondo, però alla fine del mondo ci dobbiamo arrivare, quindi mettetevi comodi perché si tratta di un viaggio molto lungo e pesante che sarà solamente l'inizio della nostra avventura fino in Antartide. Prima di augurarvi buona visione però, ormai amici HelloFresh appuntamento fisso, io mi sono innamorato. Come funziona? È un abbonamento settimanale flessibile che si adatta perfettamente anche a quelli che sono i miei ritmi, perché scegli tu il giorno della consegna e volendo puoi anche metterlo in pausa. Perfetto per quando parto così posso ricevere la box al mio ritorno. Provare è semplicissimo e vi lascio il link qui sotto, in pratica vai sul sito, scegli quanti piatti vuoi e per quante persone e poi ti dai un'occhiata al menu che cambia ogni settimana. Piatti italiani, piatti un po' internazionali, i miei preferiti sono quelli asiatici, vegetariane, carne e pesce, adatte a tutta la famiglia, conta calorie. Scegli il giorno della consegna e ricevi la box direttamente a casa, box 100% riciclabile, ti arriva tutto nella misura giusta così sprechi meno cibo, meno tempo e meno energie. Non ti mandano piatti pronti, ti mandano gli ingredienti e te li cucini tu, quindi c'è anche una bella soddisfazione. E finora ho mangiato solo cose buonissime. Ovviamente vi lascio anche il codice sconto 65NICOLÒ per avere fino a 65 euro di sconto sulle prime tre box. Il momento che preferisco di quando vi parlo di HelloFresh è quello dell'assaggio. Mi sento nel sud-est asiatico. Senza HelloFresh stasera mi sarei mangiato un'insalata. Grazie HelloFresh per supportare il canale, non mi resta che augurarvi buona visione. Aeroporto di Milano Malpensa. Fortunatamente sono arrivato in tempo per prendere il primo volo di questo lunghissimo viaggio che porterà a me e il buon Daniel fino a Dushuaia, fino alla fine del mondo. Andiamo a Madrid e lì ci aspetto un altro volo di 13 ore per Buenos Aires. Siamo appena atterrati a Madrid ma non ho capito quale sia il problema. So solo che rimarremo sull'aereo ancora per un po', meno male che non ce l'avamo assati. Se camminiamo ancora un po', a Dushuaia ci arriviamo a piedi. Io penso che non potevo prendere hamburger più triste di questo. È un po' triste. Wagyu burger, soli 28 euro. Meno male che mi sono fatto dare anche l'insalata. Cena abbastanza terribile. Comunque vorrei ringraziare quella ragazza che mi ha riconosciuto sull'altro volo e mi ha regalato i coupon del wifi per il prossimo volo. La fila per il nostro volo finisce in Portogallo. Non ce lo so. Riposati come solo chi ha dormito in aereo può essere riposato. Siamo all'aeroporto di Buenos Aires e stiamo aspettando un taxi che ci porti all'altro aeroporto di Buenos Aires dove ci aspetta il prossimo volo per Ushuaia. Giusto il tempo di mangiarsi un bel banana bread. Pare che ci sia un incidente grosso e quindi i taxi sono tutti in ritardo. Un perro! Seguiamo il nostro uomo. Quanto si sta bene a Buenos Aires? Quanti? 24 gradi? Sì, ora sì. Ce la facciamo, ce la facciamo. Mamma mia che viaggio della speranza ragazzi. Comunque ho miseramente fallito nel mio tentativo di arrivare fino in Antartide col bagaglio a mano. Sapete che io viaggio ovunque solo bagaglio a mano. Volevo poter dire sono andato in Antartide solo bagaglio a mano. Il problema è che mi sono dovuto interfacciare con l'assurdità delle regole dei controlli di sicurezza. Ovvero non si possono portare i treppiedi cavalletti a bordo. E io avevo un cavalletto che non potevo di certo lasciare lì ai controlli. Fosse stato un cavalletto a 10 euro di Amazon come quelli che usavo qualche anno fa l'avrei fatto. E quindi siamo dovuti scendere e fare una fila immensa. Sembrava di essere all'ingresso al concerto dei Dari per lasciare giù i bagagli. E dopo rifarci i controlli di sicurezza per arrivare in tempo per fortuna al gate. Adesso dobbiamo solamente sperare che il mio bagaglio in stiva arrivi a destinazione. Perché se non dovesse arrivare ad Ushuaia con noi sarebbe un problema. Mi vedrete in Antartide vestito così. Fortunatamente tutta l'attrezzatura fotografica ce l'ho. E qual è la cosa più importante? Non capisco il senso di questa cosa comunque. Uno non può portare a bordo dell'aereo un cavalletto fotografico. Che giustamente tu potresti dare in testa a qualcuno. Però puoi portare un bastone da basseggio e un bottiglione di vetro che puoi spaccare. Lo compri qua al duty free. Non ha senso questa cosa. È la prima volta in tutta la mia vita che non mi fanno portare a bordo il cavalletto. Non mi era mai successo. Tutta sta fretta per niente. Stanno imbarcando solo adesso. Ho fatto in tempo a prendermi uno yogurt di bufala. Non voglio prendere aerei per un bel po'. Mi hanno perso talmente tante volte il bagaglio anche sui voli diretti da avere tutte le ragioni per temere che anche questa volta non arrivi. È per quello che non lo imbarco mai. Però incrociamo le dita. Eccolo, eccolo. Benvenuto a Ushuaia. Metto piede per la prima volta in Patagonia. Raga, ma è bellissimo. Raga, ma le vedete queste montagne? Ma quanto sono... Ecco, giustamente arriva il bus. Quanto sono belle queste montagne. A parte che mi sembra di essere in Norvegia. Alle isole Svalbard. Sono pazzesche. Ma poi con questa nebbiolina, questo tempaccio. Che spettacolo. Che meraviglia. Ci credo che sembrano a Norvegia. Siamo praticamente dentro a un fiordo. Partirei subito adesso per fare un trekking senza neanche mettere giù i bagagli. Probabilmente resisterei sei minuti perché pesano tantissimo. Però ce l'abbiamo fatta, raga. Siamo arrivati in Patagonia. Sono veramente emozionato. Che bella pioggia. Siamo arrivati all'appartamento. Adesso dovrebbe scendere Carlo a prenderci. Stavo parlando col tassista. Mi ha detto che qua davanti c'è una pizzeria che ci consiglia di provare. Gli ho detto va bene, la pizza alla fine del mondo. Ne mancano ancora due e l'equipaggio sarà al completo. Bellino. Abbiamo pure una vista, niente male, sulla città di Ushuaia. Siamo un po' lontani dal centro e piove. Però chissà ne frega. Bellissimo. A parte il meteo direi che questo viaggio inizia alla grande. Comunque qui c'è quel bel descanso della nostra area salotto. Con vista. Zona pranzo cena che non penso sfrutteremo. Cucina. Molto carina. C'è tutto il necessario. C'è anche il bollitore. Dopo magari mi faccio un teino. O un tostino. Con vista. Qui c'è una zona, un bagno un po' solitario. Il parquet più scivoloso del Sud America. Andiamo su. Questo è il lettone in cui mi coccolerò con ste. Però anche questo non è male. Ho bisogno di una doccia, raga. Qui c'è un altro bagno con il bidet. Di qua un'altra stanza con un altro bagno. Anche stavolta la doccia può attendere. È uscito il sole e quindi andiamo a farci un giro. Raga, non piove, ne approfittiamo. Stiamo camminando verso il centro. Primi passi per Ushuaia. Devo dire che mi dà proprio l'aria di essere una città dalla quale si parte per delle grandi avventure. È il nostro caso. Il centro è veramente piccolo comunque. Siamo già arrivati dalle parti del porto perché vogliamo fare la foto con l'iconico cartello della città alla fine del mondo. Da che parte? E noi partiremo proprio da questo porto. Non so però se la nave è già... Ah ma è qua il... No. Che spettacolo. È una vita che sognavo di vedere dal vivo questo cartello. Non lo so, mi ha sempre emozionato. Ushuaia fin del mondo. Los pobladores de Ushuaia les damos la bienvenida. E questo per ora è il posto più a sud che abbia mai visitato in tutta la mia vita. Non sono mai stato più a sud di così. Anche se in realtà non è il posto più lontano da casa che abbia mai visto. Perché quello è la Nuova Zelanda. Comunque al cartello ci torniamo domani anche perché dobbiamo fare la foto tutti insieme quando arrivano anche Claudio e te. Ma soprattutto voglio tornare per attaccare uno dei miei adesivi che come al solito mi sono dimenticato nella borsa. Dove è il ristorante che dicevi? Quello dove vedi la fila. A quanto pare qui c'è un super ristorante mega tipico che dobbiamo tassativamente provare. La fila non si muove ma noi non demordiamo. Ne approfitto per venire qui in riva al mare perché il sole è appena tramontato. Quindi tecnicamente primo sunset lover di questo lungo viaggio. Inizia a fare abbastanza freddo però nonostante da noi sia inverno qui c'è la bella stagione. Quindi non fa freddissimo. Siamo i prossimi soltanto che siamo in tre e tutti i tavoli disponibili erano da due. Io penso che se il tipo esce e ci dice ancora due persone gli mordo il braccio. Ho troppo fame. Ok amici allora finalmente siamo riusciti ad entrare altrimenti il braccio del cameriere lo vedevo davvero male. Il menù prevede un sacco di specialità tipiche locali tra cui la sentoglia intera Parados Personas che sarebbe il granchio gigantesco che c'era all'ingresso. È esattamente ciò che vogliamo prendere. Comunque il locale è molto carino, molto pittoresco e c'è un mood molto azzorre. Probabilmente abbiamo ordinato troppo cibo e dubito che riusciremo a far star tutto su questa piccola tavola. Pane caldo con questa salsetta all'aglio è già il protagonista della serata. Qua ci hanno portato questo piattino di gamberi e quello fortunatamente non è coriandolo e infatti l'abbiamo divorato. Nel giro di pochi minuti però arriva anche il piattazzo principale, il mostro marino che come previsto a momenti non ci stava sul tavolo. Uno in tre perché siamo umili. Certo che si capisce che fa questo lavoro da un sacco di anni anche solo dal fatto che riesce a manovrare questo granchio a mani nude senza pungersi le dita, cosa per noi impossibile. Questo no, ok. Allora è molto complicato da mangiare, stanno partendo pezzi in tutte le direzioni però posso dire granchio più buono di tutta la mia vita. Pazzesco se non fosse così difficile e doloroso da aprire perché cioè non so se potete, non so se vedete dal video gli aculei che ci sono sopra però quando lo tagli fa un male cane. Guarda qui, guarda qua che scarpetta incredibile. Ci vorrebbero dei guanti antinfortunistica. C'è il pane, guarda qua che scarpetta incredibile. Questa cena è talmente buona che secondo me ti abbassa l'aspettativa di vita. È tutto troppo buono. Carlo devo dire che hai scelto proprio bene. Amici nel frattempo è arrivato anche il conto, sono 31.410 dollari argentini, all'incirca 185 euro in tre per tutto questo cibo che avete visto, più due bottiglie di vino, due dolci. Ah, che bella cena. Io sbocco troppo. Guarda che è arrivato il taxi. No, 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 andiamo a piedi. No, no, raga, non andiamo in taxi. Voglio godermi questo trekking per arrivare fino al nostro appartamento così smaltiamo per bene tutto questo popò di granchione. Ma poi sono stato 24 ore seduto e non mi voglio buttare in un taxi, voglio camminare, camminare per le vie di Ushuaia, la Venezia del Sud. Buonanotte. C'è un gigantesco perro. Parla l'italiano. Non ho capito, siamo in quel bar che fa i croissant giganti. Va bene, io mi sono preso quello che probabilmente è il macialatte più a sud del mondo. Vuoi una zolletta di zucchero? Colazione ipercalorica totalmente non necessaria a parte, guardate cosa si trova per le strade di Ushuaia. Sul marciapiede legate ad un palo questi due tubi, uno con i croccantini e uno con l'acqua. Per i nostri amici perri. Amici, siamo tornati al porto perché come molti di voi mi hanno consigliato, ovviamente, non potevamo non passare dall'ufficio del turismo dove rilasciano il timbro di Ushuaia. Quando siamo arrivati in Argentina non ci hanno messo il timbro sul passaporto. Gran peccato perché sapete che mi piace collezionare timbri, sono ricordi di tutti i miei viaggi che tengo gelosamente custoditi sul mio passaporto che ormai è quasi pieno. Però in Argentina non ce l'hanno messo ma per fortuna si poteva fare qui. Avevo letto anche commenti che mi dicevate tipo che costava 3 dollari. In realtà non soltanto è gratis ma ci sono addirittura 3 timbri diversi tra i quali scegliere. E io ho scelto di farli ovviamente tutti e tre, perché sono uno più bello dell'altro. Il mio preferito è quello dei pinguini. Ma soprattutto al porto è arrivata la nostra nave, quella sulla quale ci imbarcheremo domani. Quindi adesso andiamo a vederla. Beh, è molto bella devo dire. E molto più piccola rispetto alle altre. Dopo aver contemplato la bellezza della nave con la quale solcheremo i mari più agitati del mondo e dopo aver messo i timbri sul passaporto all'ufficio del turismo, ad Ushuaia non ci rimane molto altro da fare. Anche perché se parti per una spedizione fino in Antartide, tutte le escursioni che il porto ti offre non hanno più molto senso. Sarebbe un po' come rovinarsi l'appetito prima di un ristorante stellato. A Ushuaia si può andare per negozi, fare le ultime compere, i supermercati ve li faccio vedere nel video successivo. Cosa ci rimane da fare? Pizza della fine del mondo. Sapevate che questo momento sarebbe arrivato? Come sapete io di solito quando sono in giro ordino per il meme la pizza con l'ananas. Però vi giuro che una pizza come questa io non l'avevo mai vista. Cioè per farvi capire, a parte che è piccolissima ma a sto punto meglio così, ci sono quattro fettazze di ananas sciroppato con all'interno delle ciliegine tipo amarene, quelle... No, non ho parole. Sì, sono quelle dei dolci. Ci sono quattro olive al centro ma soprattutto una cosa che odio. Puoi mettermi l'ananas, puoi mettermi le ciliegie ma se mi metti l'origano mi metti veramente in difficoltà. Questa è in assoluto una delle pizze più brutte che abbia mai visto. Poi io non pensavo mi mettesse tutta sta roba perché è un brunch. Forse avrei dovuto leggere gli ingredienti. Andiamo con un assaggio incredibile? Madonna, ma come faccio a mangiarla? Devo tagliarla per forza perché altrimenti è impossibile prendere su un pezzo. È veramente dolce. Ti giuro che non so come sentirmi al riguardo. Il fatto è che è vero l'impasto è buono ma anche il prosciutto non è male. Però questo ananas direttamente dalla scatoletta è difficile. Posso dirvi già con assoluta certezza che questa è una delle tre pizze peggiori che abbia mai mangiato. Questa sta sul podio assieme alla pizza irachena e alla pizza indiana mangiata a Cape Town in Sudafrica. Una delle cose peggiori che peggiora proprio l'esperienza della pizza in sé è che il tagliere in realtà non è di legno, è di plastica. E ogni volta che tagli si formano delle microplastiche che vai ad ingerire assieme al formaggio che incolla su tutto. E quindi ti mangi la fetta di pizza, di pizza veramente poco raga. Sapete che io sono uno molto aperto che tende a mangiare le pizze più assurde ma questa sto facendo davvero tanto fatica a finirla. Gli amareni, cioè sembra di avere un ghiacciolo di quelli rossi poggiato sopra, però caldo. Cioè, io sono senza parole. È stata una delle peggiori esperienze culinarie di tutta la mia vita. E io sono un estimatore della pizza con l'ananas, però l'ananas che metti sulla pizza deve essere fresco, tagliato in pezzi molto piccoli. Non puoi mettere la fetta intera, estremamente dolce, come colpo di grazia, le amarene. No, era una roba vomitevole, immangiabile. Ho fatto davvero fatica a combattere con il mio istinto di non avanzare il cibo. Mi sento così in colpa. Chiedo scusa pubblicamente a tutti i miei connazionali. Ormai però il danno è stato fatto. Estando a queste carte, a partire dal 31 di gennaio 2023 devo scontare un esilio. Vabbè, prossimamente, cosa vendono nei supermercati sull'isola di Tristan da Cugna? Con questa pizza ho un po' esagerato. A mia difesa non mi aspettavo a facersi così schifo. Mi merito tutti gli insulti che vorrete lasciarmi qua sotto tra i commenti, tranne la cosa che mi scrivono sempre. Se vuoi mangiare la pizza buona te la mangi in Italia, ma se mi mangio la pizza solamente in Italia dove sta la gag? Questa era veramente oscena. Comunque sono arrivati anche Claudio e Sté, quindi la squadra è ufficialmente al completo. Nel prossimo capitolo vi faccio vedere i nostri ultimi momenti sulla terraferma prima di imbarcarci alla volta del canale di Beagle. Quindi vi ringrazio per aver visto il video di oggi fino alla fine. In descrizione, come sempre, trovate il link a Todo Cambia. Tutto ricavato va in beneficenza ad Emergenza Sorrisi. Trovate anche il link al super evento si vola di quest'anno. Ora come ora è l'unico viaggio si vola in cui ci sono anch'io. Ci siamo proprio tutti e sarò presente anche alla sera dell'evento. Comunque questo puntino rosso mi dà fastidio. Ad ogni modo, se ve lo siete perso, trovate su questo secondo canale il video di 30 minuti dedicato al Marocco, come sul lunedì scorso. Mentre sul primo canale ho pubblicato il video dei Gorilla. Se non l'avete visto andatelo a recuperare. Intanto che state guardando questo video io sarò già partito per il Giappone. Quindi torno a montare tutti i video di gennaio. Perché noi ci vediamo come sempre lunedì alle 19 con una nuova avventura. Ciao ciao! Comunque si dice Ushuaia, non Ushuaia, come dico io.